Osservando che ho anticipato al Presidente Macron l'invito che poi verrà inoltrato formalmente per tenere in Italia un prossimo, il prossimo vertice bilaterale, lo faremo all'inizio del prossimo anno, ormai quest'anno non ce la facciamo più, ma sarà importante per rinsaldare anche gli intensi rapporti culturali, culturali che ci vedono ovviamente lavorare fianco a fianco, anche per celebrazioni che ci coinvolgono come quella di Leonardo, come quella di Raffaello prossimamente e continueremo a lavorare su tante altre iniziative comuni. Grazie, buon lavoro. Grazie.